La campagna è una regione dell'Italia meridionale con capoluogo Napoli. Confina a nord-ovest con il Lazio, a nord con il Molise e a est con Puglia e Basilicata. A ovest è bagnata dal mar Tirreno. La campagna, forte della propria ricchezza storico-culturale, archeologica, paesaggistica e gastronomica, offre tanto al turista, soprattutto in termini di varietà di itinerari da esplorare. Ben sei sono siti insigniti del titolo di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, tra cui il centro storico di Napoli, il più vasto del vecchio continente. Napoli, capoluogo della campagna, è tra le aree metropolitane più popolose d'Europa. Situata sul mare, nell'omonimo golfo, tra il Vesuvio e l'area vulcanica dei campi Flegrei, è una città dai mille volti e frutto di una storia secolare, che si riflette in ogni suo angolo. Meta ideale per il turista a caccia di stimoli ed emozioni in una realtà fuori dall'ordinario. Il centro storico di Napoli è il più vasto d'Europa. Si estende su circa 17 chilometri quadrati dell'intera superficie urbana e racchiude ben 27 secoli di storia e 14 quartieri. È stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1995. La particolarità che lo rende unico sta nella conservazione quasi totale e nell'uso dell'antico tracciato viario greco. È un'area che racchiude un grande numero di castelli, residenze reali, palazzi monumentali, chiese storiche e resti dell'età classica. Simbolo per eccellenza della città di Napoli, Castelnuovo, anche noto come Maschio Angioino, è uno storico castello medievale e rinascimentale. Domina una tra le più scenografiche piazze della città, Piazza Municipio, ed è sede della Società Napoletana di Storia Patria e del Comitato di Napoli dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Al suo interno ha sede il Museo Civico. Capodimonte è una zona di Napoli, su una collina nel punto più alto della città storica. Tappa obbligata in una visita a Napoli, data la presenza di aree verdi e beni culturali di grande valore. Carlo di Borbone volle costruire qui un casino di caccia. Il progetto fu poi ampliato, perciò vi fece edificare un palazzo per poi sistemarvi le preziose collezioni farnesiane. Il Palazzo Reale è oggi sede del Museo Nazionale di Capodimonte, uno dei più importanti del mondo per la pittura e le arti decorative. Il Teatro di San Carlo, tra i più famosi e prestigiosi al mondo, fu fondato nel 1736 ed è il più antico teatro d'opera in Europa ancora attivo. Può ospitare più di 2000 spettatori. Date le sue dimensioni e la sua particolare struttura, è stato modello per i successivi teatri costruiti in Europa. Vanta un'acustica pressoché perfetta e una storia di grande prestigio. Da ricordare Rossini e Donizetti, tra i suoi più celebri direttori musicali e artistici. Le origini di Pompei sono antiche quanto quelle di Roma. Una migrazione di abitanti dalla valle del Sarno formò un primitivo insediamento ai piedi del Vesuvio. All'eruzione del vulcano risalente all'estate del 79 d.C., è legata la storia di questa città. Pompei fu infatti sommersa da una pioggia di cenere e lapilli, che cadde ininterrottamente fino a formare uno strato di oltre tre metri. La città è stata così cristallizzata e preservata nel tempo. Nel 1997 l'UNESCO ha dichiarato Pompei patrimonio mondiale dell'umanità. Oggi gli scavi costituiscono una delle migliori testimonianze di quella che fu la vita romana. La città risulta come cristallizzata nel tempo, ed è ricca di reperti storici che hanno infatti permesso di comprendere gli usi, i costumi, le abitudini alimentari, l'arte, la vita di oltre due millenni fa. La maggior parte di questi reperti, tra cui su pellettili di uso quotidiano, affreschi, mosaici e statue, sono oggi conservati al Museo archeologico nazionale di Napoli, e in piccola quantità anche nell'antiquarium di Pompei, attualmente chiuso. Amalfi, antica repubblica marinara, è una città in provincia di Salerno che dà il nome all'omonimo tratto della penisola su cui sorge, la famosa costiera amalfitana, dichiarata nel 1997 patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il territorio ha un forte indotto economico grazie al turismo. Altro notevole indotto economico è costituito dall'esportazione del celebre limone Costa d'Amalfi. La costiera amalfitana è il tratto di costa campana situato a sud della penisola sorrentina, che si affaccia sul golfo di Salerno. È delimitato ad ovest da Positano e a est da Vietri sul mare. È un tratto di costa famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica e meta di turismo balneare. Amalfi, da cui la costiera apprende il nome, ne è il nucleo centrale, sia geograficamente che storicamente. La costiera amalfitana è nota per la sua eterogeneità e per alcuni prodotti tipici come il limoncello, le alici e le conserve di pesce prodotte a cetara e le ceramiche realizzate e dipinte a mano a Vietri. Caserta è una città campana con un ricco patrimonio artistico e culturale. Sono da annoverare il Belvedere di San Leucio, il borgo medievale di Caserta Vecchia col suo Duomo del 1100 e il castello della stessa epoca. Nonostante ciò, il suo nome è notoriamente legato alla straordinaria reggia reale, che rende la città famosa in tutto il mondo. La reggia di Caserta, o Palazzo Reale di Caserta, è una dimora storica appartenuta alla Casa Reale dei Borbone di Napoli. Voluta da re Carlo di Borbone, fu fatta edificare a Caserta perché non troppo distante da Napoli, che essendo sul mare si rivelava poco sicura. A realizzare l'opera fu chiamato l'architetto più in voga del tempo, Luigi Van Vitelli. È circondata da un vasto parco diviso in due settori. Il giardino all'italiana, in cui sono presenti diverse fontane e la famosa Grande Cascata, e il giardino all'inglese, caratterizzato da fitti boschi. La reggia di Caserta, detta anche la Versailles d'Italia, in termini di volume è la più grande residenza reale del mondo, con oltre 2 milioni di metri cubi. Nel 2013 è stata visitata da più di 400.000 persone. Nel 2013 è stata visitata da più di 400.000 persone.